A Pescara sarà attiva tra qualche giorno la nuova struttura per vaccini anti-covid, tamponi e anche accoglienza sanitaria per i profughi ucraini all'ex Lidl di Via Tirino. Soddisfatto l'assessore Eugenio Seccia che spiega come l'ex supermercato tra Via Tirino e Colle Renazzo sia stato messo a disposizione del comune gratuitamente dalla Lidl. La nuova sede sopperirà la chiusura di Palazzo Fuxas e di Pescara Porta Nuova per diventare un polo unitario. La Lidl ci ha messo a disposizione questa struttura di 1350 metri quadri, c'è stato sabato mattina il sopralluogo con la ASL, con Rossano di Luzio, Danilo Palestini ed altre persone per verificare la idoneità della struttura. Lidl è libera e quindi un open space a disposizione della città di Pescara. Gratuitamente ringraziamo per questo la Lidl Italia che ci mette a disposizione sia la struttura sia le utenze, quindi a totale beneficio dei pescaresi. La ASL, ovviamente visto anche il calo dei vaccini e vista la restituzione del Palazzo Fuxas che dovremo fare entro questo mese, probabilmente sposterà, anzi quasi sicuramente sposterà la vaccinazione in questa struttura alle nostre spalle. e la stazione di Porta Nuova dove attualmente c'è il centro dove vengono effettuati i tamponi, registrazioni anche delle persone che vengono dall'Ucraina, si trasferirà in questa struttura. Tempo per traslocare circa una decina di giorni, 10-15 giorni, in modo che ovviamente riprendiamo da dove praticamente lasceremo lì quegli altri spazi. E adesso per concentrare le forze anche dei volontari della ASL e quant'altro ci sembra intelligente utilizzarla per questa faccia di estate che ci sarà tra poco. Pertanto attraverso questo servizio riusciremo in qualche modo a tutire quelle che sono le pressioni, sperando che ci sia un calo ovviamente dei contagi, perché anche se c'è stato un calo delle vaccinazioni i contagi purtroppo non calano. Ecco, quindi questo sarà un polo molto importante perché avverranno le vaccinazioni per tutti i cittadini, i tamponi e una prima accoglienza, sottolineiamola, sanitaria anche per i profughi ucraini. Assolutamente sì, perché ci saranno anche le forze di polizia che hanno fatto il riconoscimento di coloro che arrivano dalla guerra, quindi continueranno a farlo in questa struttura. Io ci tengo a sottolineare anche un passaggio alla Lidl che probabilmente ci siamo impegnati a fare attività sanitaria e così è. Non ci saranno accoglienza, nel senso non sarà un dormitorio, ma solo attività sanitaria, quindi tamponi e vaccini per i pescaresi e per i cittadini ucraini. Fino a quando Assessore sarà aperta e attiva questa struttura? Questa struttura già è disponibile, questa mattina probabilmente firmeranno il comodato d'uso gratuito, sarà disponibile fino a fine agosto, con possibilità di rinnovo fino a ottobre. Quindi diciamo che l'estate e parte dell'autunno Pescara sarà coperta gratuitamente con il contributo di Lidl in questo senso.